Audio guida a cura del sito non ufficiale di Carpineto Romano, titolo, le portelle, all'inizio di via San Nicola, proseguendo da via Castello, siamo costretti a passare sotto una portella. Un tempo numerose e importanti dovevano essere le porte piccole a Carpineto, tanto è vero, che ancora oggi, una zona da balle, è chiamata la portella, sono delle porte, e degli archi, disposti con sapienza a chiudere l'entrata dei piccoli, in modo da poter dividere il paese, in tanti compartimenti stagno, in caso di invasione. Oltre alle portelle, Carpineto, in antico aveva tre porte principali, una alla Peschiera, un'altra a Lago, passata alla piazza Leone XIII, ed infine alla piazza Regina Margherita. Dagli Statuti e Costituzioni Carpinetane del 1556, si legge che, le porte della città, debbono chiudersi all'Ave Maria, e non si possono aprire, che per i principi, i signori, o coloro che portano una corona in capo, www.carpinetoromano.altervista.org.